Camisano Vicentino, note da incubo per una 46enne costretta a subire violenza sessuale, denunciato dai carabinieri un quarantenne residente in provincia di Padova. Secondo la ricostruzione, i due si sarebbero conosciuti nel corso della serata, poi l'uomo avrebbe aggredito la donna e costretta a subire la violenza. Soccorsa da alcuni conoscenti, riferiva dell'aggressione e venivano chiamati i carabinieri. I militari, attraverso le testimonianze e riscontri acquisiti, riuscivano nelle ore successive a rintracciare il quarantenne e a denunciarlo per il reato di violenza sessuale.